Consigliera un bilancio di questa prima parte di estate, giugno e luglio, le presenze qui sull'Isola Azzurra? Devo dire che siamo molto felici, il bilancio è positivo. Per il momento giugno e luglio sono stati mesi splendidi con un forte afflusso di turisti, non solo europei, e siamo felici di aver accolto anche i primi americani che hanno ripreso a viaggiare. Quali sono invece le previsioni per agosto e settembre in termini di prenotazioni? In termini di prenotazioni anche agosto e settembre si prevedono mesi ottimi per il turismo a Capri. Anche a settembre c'è molta presenza e molta richiesta da parte dei turisti. Abbiamo previsto una serie di eventi anche in ottobre per cercare di allungare un po' la stagione turistica perché chiaramente è iniziata quest'anno a causa del covid tardi. Ma le previsioni sono assolutamente positive, mi sento di essere ottimista su questa stagione. Quindi turisti italiani, europei e anche extraeuropei? Assolutamente, anche extraeuropei. Molto europei chiaramente, ma abbiamo presenza anche di americani, brasiliani, quindi siamo molto felici di accoglierli. Stanno arrivando anche i turisti russi, notoriamente, che frequentano l'isola di Capri? Turisti russi? Certo, stanno arrivando anche turisti russi che chiaramente in percentuale sono molto minori. Di solito Capri è sempre stata vocazione americana, quindi molti americani più che russi. Quali sono invece gli eventi che state organizzando sul territorio, sia per questi mesi e anche, come diceva, per l'autunno? Ci sono manifestazioni teatrali, ci sarà una manifestazione cinematografica che stiamo cercando di organizzare per ottobre in collaborazione con un altro evento cinematografico che si tiene a Napoli tutti gli anni e quindi comunque eventi che vedranno il coinvolgimento anche di personalità. C'è anche un festival che si svolgerà sulle varie isole del Golfo, su Capri e Anacapri ci saranno due date e poi ce ne sarà un'altra approcida che è il canto delle sirene. Quindi sarà una stagione interessante anche dal punto di vista culturale. L'obiettivo è allungare la stagione. Noi sappiamo che è tradizione a Capri anche il Natale e Capodanno. Certo, devo dire che attualmente non ci siamo spinti a guardare così lontano. Capiamo come evolverà la situazione anche dal punto di vista del Covid e prontamente chiaramente una volta a settembre inizieremo a programmare anche per Natale e Capodanno.